Una manifestazione, una caccia con falco, con tutta la tradizione di Federico II, proprio in secondo la procedura originale, con animali che alleio che portano altri. Non neanche, da tutta l'Italia. Ogni settembre, in ottobre, abbiamo una replica speciale del modo di cacere con falconi, che era fatto nel mediale tempo dell'Empere Federico II. Abbiamo fattori falconi che vengono dall'Italia, e preparano, come ho detto, un campo speciale fuori dal centro, perché questi tipo di falconi sono molto pericolosi. Possono attaccare i bambini, i bambini e così via, e quindi, in un'area preservata, si lanciano i bambini, i bambini, i bambini e così via, e quindi c'è una reale competizione tra i falconi, per chi è il primo che caccia il bambino. E poi c'è un corteo storico, e ovviamente sono escoltati da qui, circa 500 persone, o con tutti i bambini e i bambini e così via, e quindi è molto scenegrafico. E poi c'è i combattimenti, la Quintana, gli arcieri... E poi c'è una manifestazione grandissima. Due parole al professor Bufana dell'associazione, devo dire due parole sull'associazione. Indubbiamente, noi curiamo, abbiamo parlato poco fa, noi curiamo attentamente queste rievocazioni storiche, che partono dai normanni, l'epoca normanna, attraverso Federico II, e si arriva fino all'ultima parte, che è quella praticamente che fa dopo i caraccioli, i caraccioli arrivano da Genova, l'ammirario Andrea Doria. Siamo nel 1531, con l'ammirario. Ho capito. Più o meno quella. Sì. 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 C'è una associazione non-for-profit che preserva e nurtura questo tipo di tradizioni. Io immagino che tutte le persone che si presentano e che operano sono tutti volontari. Tutti volontari che amano replicare l'ultima tradizione della città, e hanno diversi eventi che replicano le situazioni in diversi periodi. da l'inizio del tempo medioevole, fino al tempo Federico II, fino a quando un famoso ammirario della Repubblica di Genova veniva qui, veniva il castello, e questo è circa 1530. E lui era il pranzo di Nessun. Quindi vivendo qui. Ora, posso ancora chiedere qualcosa di mia curiosità personale? Cosa significa avere dei falconi in casa, Federico? Bisogna amare. Amare i falconi è una cosa più. Vuol dire che giornalmente come li nutre, come li cura... Accomene. Stavo chiedendo, cosa significa per te avere falconi in casa? E la prima risposta è che devi amare. Questo è un minimo di due ore per ogni falcon. Ogni giorno ha due ore per ogni uomo, ogni giorno. Perché così tanto tempo? Perché è una passione. Gli altri possono stare a mezz'ora, io devo stare a mezz'ora, perché ci parlo, vado insieme. Voglio più bene a loro che alla famiglia. Sono il mio amore. La mia famiglia non ha bisogno di rispondere a questo, ma sono davvero il mio amore. E questo è il motivo per cui spendo due ore per insegnare a tutti. Se uno mi fa la domanda, chi è più bene? La moglie o il falco? Prima il falco, prima il falco e poi la moglie. Immaginamente. Prima i falconi e poi i falconi. Ma è proprio una passione. Colcini, guaglie, alette di pollo, tutte le carne bianca. Le piccole, le piccole, le piccole e così via, devono dare a loro un pollo.